Un caro saluto a tutti quanti, è un po' che non parlavamo degli aggiornamenti di Google Chrome ma in questa occasione scelgo di farlo più che altro perché secondo me è interessante valutare tutta una serie di aspetti che potrebbero comunque avere un certo impatto. Quindi come vedete qua c'è la versione nuova, la versione 120, se non sapete come aggiornare Google Chrome semplicemente dovete andare qua dove ci sono i tre pallini, guida, informazioni su Google Chrome, se vi da che è aggiornato ok, altrimenti premete il tasto aggiorna, quindi questa cosa qua è molto importante e molto semplice. Ma andiamo a vedere quelle che sono le novità che Google stesso ci va a proporre, quindi andremo a vedere insieme quello che ci sono un po' di novità. Allora è stata introdotta, vedete qua in alto, la riquadro laterale, questo lo dico per chi dovesse ascoltare il podcast, quindi tra le novità è stata diciamo così migliorata quell'aspetto che esisteva già, ovvero il riquadro laterale che come vedete nel video è in alto a destra ma per chi dovesse ascoltare si trova appunto lì. E ha quest'icona di questo quadratino un po' pieno e un po' vuoto che se premiamo ha questo tipo di aspetto. Confesso che io non sono mai stato troppo fan di questa versione carina, interessante, però per esempio quando si andava a premere una ricerca qualsiasi all'interno della barra di ricerca qua in alto si mescolavano una andava dentro l'altra, ciò non è che mi ha fatto mai impazzire. Però la cosa che è interessante adesso sembra almeno da questo punto di vista che ha unito la logica dei preferiti, cioè la barra dei preferiti per esempio si va un po' a mescolare ma nel senso anche positivo se vogliamo, quindi tutto quello che trovate qua in alto la trovate anche qua. E la barra dei preferiti se vogliamo e non volete utilizzare questa cosa qua, quindi fate tasto destro, mostra barra dei preferiti, la togliete. Questo serve per allungare, cioè ingrandire ancora di più lo spazio legato all'area in cui voi visionate i contenuti, ma in questo tipo di situazione voi potete andare qua, usate la vostra barra direttamente da qua e vi andate a scegliere in base alle categorie che a voi interessano di più quelle che sono naturalmente le vostre cose. Avete tutta l'anteprima, è comodo, carino, ma mi fa fare troppi click, cioè io sono sempre per il più veloce, cioè non tanto perché sono abituato a fare una cosa, ma perché deve essere la cosa più veloce possibile e io continuo ad andare sopra, trattare e trattare e vado a cliccare sulla mia barra qua in alto, quindi francamente vi dico non so quanto possa essere così tanto utile questa barra qua laterale e probabilmente andrò avanti a non utilizzarla. Comunque sappiate che volendo sbragate quella parte qua vi tenete i preferiti qua, oppure per esempio potete tenere quelli che sono effettivamente i preferiti, cioè quindi cancellate tutto quello che sono, quello che voi aggiungete qua, vi tenete proprio le cose più veloci, tenete addirittura questa barra sempre aperta, perché per esempio ad avere un monitor ultra wide questa cosa ha molto senso, perché non andate ad occupare spazio di righe in basso, ma andate ad occupare quella parte qua, quindi potrebbe anche starci come logica, non lo so, dopo ognuno di voi faccia un po' quello che vuole. Qui c'è la possibilità ecco di nuova personalizzazione, anche vabbè c'è la parte del tema, il tema chiaro, il tema scuro che appunto si va ad aggiungere, qua ci sono tutte le vostre estensioni, tutte le vostre cose che potete nel caso andare a mettere, e appunto vabbè insomma c'è nuova scheda nella parte inferiore della pagina, fate qui su personalizza chrome, quindi se noi andiamo su nuova scheda c'è personalizza chrome e vi dà tutta una serie di aspetti che possono essere interessanti anche per quanto riguarda ovviamente le scorciatoie, i colori eccetera. Io naturalmente ho di default questo dispositivo che non so cosa voglia dire, io voglio andare di default in scuro, ma a me non cambia nulla perché va tenendo questo sul default del dispositivo che nel mio caso è scuro, quindi automaticamente è agganciato su quello. Se ad esempio facessimo seguicolore del dispositivo farebbe questo, è carino? No, perché io preferisco il mio verde che adesso non c'è più e questa cosa già mi fa incazzare tantissimo. Vediamo, vediamo com'era, nel caso si possiamo ottenere un blu? No? Ecco, c'è quel colore che avevo prima, non ce l'ho più e questa cosa già mi fa incazzare mentre sto registrando questo video. Però va bene, detto ciò torniamo invece alle altre novità. Il nuovo menu, allora le novità sono anche qua, vedete che i tre pallini che trovate qua in alto a destra si aggiornano e sono effettivamente un po' più larghi come dimensione. Avevamo aggiunto in una delle novità la gestione delle password per compilazione automatica direttamente qui e anche questa cosa qua è comoda perché non devo andare a cercarla all'interno del menu, ma questa cosa qui era già stata introdotta recentemente, quindi ci sta, mi piace. Però adesso giustamente è un pochino più largo e ha tutta una serie di novità, insomma, pratiche, comode, eccetera, eccetera, eccetera. Nuova icona per le impostazioni del sito perché ci sono, se ad esempio andate qua, una pagina a caso, mi raccomando iscrivetevi sia a questo canale dove state vedendo questo video sia al mio nuovo, nuovo ormai non è più nuovo, portale di videogame che è SimoSperum, però a parte questa cosa qua, dicevo qua ci sono le novità, vedete qua in alto vicino al, per chi sta ascoltando il podcast, dove c'è la barra del menu, scusate, la barra degli indirizzi, ok, sulla sinistra di dove c'è l'indirizzo del sito, potete andare a premere qua e ci sono tutta una serie di nuove impostazioni, quindi dai cookie alle autorizzazioni, tutta una serie di funzionalità che sono adesso espresse molto meglio. Sono molto carine anche queste finestre, molto più chiare, molto più larghe anche qua, cioè tutto ben gestito, tutto bello stondato, è sicuramente molto più bello da navigare. Ora, spero che questo video vi sia stato utile, naturalmente fatemi sapere nei commenti, adesso io dovrò andare a paciugare nelle impostazioni per ritornare ad avere quei colori che già io avevo prima, grazie a tutti, alla prossima e ciao!